Immagini color seppia, scorci in cui lo spazio ritratto si coniuga al passato, ammantato dalla patina del tempo che fu, evocando mondi lontani. Sono le fotografie di Visioni Piemontesi, paesaggio e architettura in cento anni di fotografia. Mostra visibile a Palazzo Lascaris fino al 29 marzo. Una cinquantina di scatti realizzati tra il 1860 e il 1960, dall'obiettivo di abili autori rimasti anonimi, ma anche da maestri della fotografia del Novecento, come Riccardo Peretti Griva e Secondo Pia. Sono una selezione di immagini del Piemonte, perché non poteva essere e ne voleva essere una mostra esaustiva o didattica sulle bellezze del Piemonte. Volutamente sono state affiancate vicino a immagini di autori noti, autori locali o a volte perfettamente sconosciuti, ma portatori di una serie di documenti infiniti all'interno delle loro immagini che risultano più ingenue, magari più intime, ma ricche di significato.